È di 12 persone denunciate per reati vari il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del VCO nel trascorso fine settimana. Di questi ben sei sono i denunciati per guida in stato di ebrezza, altrettante le patenti ritirate lungo le strade battute di notte e di giorno. Un giovane residente nell'entroterra verbanese è l'automobilista denunciato dai carabinieri della stazione di Premeno che l'hanno sottoposto all'alcol test dopo averlo fermato. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.